Sindacati sul piede di guerra contro la regione Campania, CGL Cisle Will preparano tre settimane di mobilitazione che si svolgeranno attraverso presidi di protesta davanti Palazzo Santa Lucia. I presidi saranno ogni volta su argomenti diversi, tutti i temi su cui le parti sociali hanno provato a avviare negli ultimi mesi una serie di confronti con la giunta regionale. Ogni tentativo però di interlocuzione con il presidente De Luca su crisi del mercato del lavoro, sanità e pandemia, ambiente e trasporti è andato fallito. Hanno denunciato nel corso di una conferenza online i segretari regionali di Cisle, CGL e Will, Doriana Bonavita, Nicola Ricci e Giovanni Sgambati. Il problema è continuare a ragionare partendo dal dato del monitoraggio, quindi capire cosa è stato fatto finora e che effetti quelle iniziative hanno prodotto e quindi estremamente importante che riparta il tavolo del partenariato ma con questi presupposti e poi che idea la campagna e se possibile allargata all'intero mezzogiorno ha sui punti cruciali su cui intervenire per dare il nostro contributo. Noi abbiamo chiesto a questa regione di arrivare a un patto delle priorità, quindi pochi punti è importante. Il punto strategico evidente è la sanità. Bisogna pensare in questa piena epidemia e la regione Campania è la regione con più alti contagi in Italia che ci sia un ragionamento con le organizzazioni sindacali sulla riforma del sistema sanitario regionale. Noi abbiamo la necessità, come abbiamo detto, di iniziare a intraprendere iniziativa di mobilitazione perché quando non siamo ascoltati non è che abbiamo tante altre strade ed è quello che faremo in queste prossime settimane di marzo e anche arrivando a una mobilitazione più larga se non abbiamo e otteniamo risposte. Quello che a noi ci sembra molto strano è che non sono in grado neanche di concludere le cose su cui ci avevano detto che erano disponibili. Ecco, questo mi sembra un approccio non positivo che vogliamo sottolinearlo con molta forza nei confronti della giunta regionale.